Roberto Ettore, rappresentante regionale dei volontari in servizio civile, oggi avete incontrato l'assessore alle politiche sociali, Sclocco, per parlare di questa legge regionale sul servizio civile. Cosa ne è uscito fuori? Noi siamo molto soddisfatti di questo incontro perché abbiamo ricevuto un'apertura da parte dell'assessore Sclocco a discutere questa proposta di legge che noi abbiamo elaborato grazie all'assemblea che abbiamo svolto su tutte e quattro le province abruzzesi e soprattutto siamo lieti dell'apertura dell'assessore Sclocco anche per quanto riguarda un aumento dei fondi di garanzia giovani destinati al servizio civile che, a quanto dice l'assessore, dovrebbero raddoppiare. Siamo estremamente lieti di questa notizia perché a questo punto possiamo ben dire che l'assessore ha compreso il valore del servizio civile. Ci sono i soldi per il servizio civile nella nostra regione? Posso dire fortunatamente sì. La regione può prendere dei fondi da garanzia giovani proprio per il servizio civile. È stata fatta una precedente programmazione di un milione di euro ma è assolutamente volontà di questo assessorato di raddoppiare quella cifra. perché vediamo davvero ed è evidente che c'è una grande richiesta e soprattutto una grande utilità per il territorio di questi ragazzi per cui sicuramente saranno soddisfatte tutte le domande. Naturalmente però dobbiamo pensare anche al futuro e quindi è mia intenzione quella di coinvolgere i ragazzi per poter far sì che ci sia una legge quadro sul servizio civile e in quel caso saremo i primi in Italia ad approvarla.